Valeria Marini è nel cast della ventesima edizione di Supervivientes, l'isola dei famosi Spagnola. Durante la prima puntata la 53enne si è subito cimentata nella prova del fango al termine del gioco. Tutti i concorrenti sono dovuti salire sulla bilancia per calcolare con precisione la quantità di sporcizia trasportata. La Marini è passata da 80 kg e 100 grammi il suo peso reale ad 84,100 grammi. La prova non è stata superata ma le sue espressioni sono diventate già virali. Grazie per la visione!